Piano della viabilità di Gallarate. Il PD boccia la rivoluzione del traffico in piazza Garibaldi. Questo stravolgimento creerà solo disagi ai cittadini, prima di tutto intasando via Mazzini, dice il consigliere Giovanni Pignataro. Non è che passando in auto le persone acquistano nei negozi di via Mazzini o riaprono nei negozi di via Mazzini. Le auto si incolonneranno, non ci sono parcheggi in più e quindi non ci sarà un beneficio, ci sarà un peggioramento della qualità della vita della via senza un beneficio del commercio. Quindi siamo molto scettici. Prima, se noi in un lago facciamo entrare un fiume e ne facciamo uscire due, sappiamo che non esonda. Ma se in un lago, che è piazza Garibaldi, facciamo entrare due fiume e ne facciamo uscire uno, che è quello che si vuole fare la settimana prossima, il problema è che ci sarà più casino, più traffico, senza risolvere nessun problema per il centro di Gallarate e per il commercio. E in merito alla richiesta di riaprire al traffico il centro storico avanzata da un gruppo di commercianti, Pignataro afferma, i cittadini vogliono zone protette e sicure dove passeggiare con i bambini e dove poter fare acquisti. Il transito delle macchine peggiorerebbe solo la situazione. Le richieste da fare all'amministrazione sono ben altre. Legittima invece la richiesta dei commercianti sarebbe, se dicessero al comune, ma darci più parcheggi. Altra proposta, il Sempro Park è sempre vuoto, facciamo veramente delle tariffe competitive per chi acquista in centro. E proprio in merito ai parcheggi, Pignataro ricorda. Sta per essere completato l'intervento di Sizza in via Roma, che porterà una trentina di posti auto a disposizione del pubblico. Ecco, quello ci potrebbe dare la possibilità di pedonalizzare la piazza più bella della città. Dunque, la vera svolta, secondo il PD, sarebbe quella di pedonalizzare piazza Garibaldi, allargando il centro storico e incrementando i posti auto nelle zone limitrofe, introducendo tariffe agevolate.